Melanie Klein, Invidia e Gratitudine, 1957, capitolo secondo, parte prima. L'esperienza mi ha insegnato che il primo oggetto di invidia è il seno che nutre, in quanto il bambino sente che il seno possiede tutto quello che egli desidera, ha una quantità illimitata di latte, di amore, che tiene però per il proprio godimento. Questa sensazione aumenta il risentimento e l'odio del bambino e di conseguenza disturba la sua relazione con la madre. Secondo me l'invidia eccessiva indica che gli aspetti paranoidi e schizzoidi sono forti in modo abnorme e in un bambino è segno di probabile malattia. In questo capitolo parlerò solo dell'invidia primaria verso il seno materno, che deve essere distinta dalle manifestazioni successive di essa, per esempio il desiderio della bambina di prendere il posto della madre o la posizione femminile del bambino. Nelle quali l'invidia non è più concentrata sul seno, ma sulla madre che riceve il pene del padre, che ha dentro di sé i figli, che dà loro luce ed è in grado di nutrirli. Ho spesso affermato che gli attacchi sadici al seno materno sono determinati da impulsi distruttivi. Desidero ora aggiungere che l'invidia aumenta in modo considerevole l'impeto di questi attacchi. Ciò significa che quando scrissi a proposito del modo avido di svuotare il seno e il corpo della madre, del desiderio di distruggere i suoi figli o di mettere cattivi escrementi in lei, lasciava già intravedere quello che più tardi ho definito il modo che ha l'invidia di guastare l'oggetto. Se pensiamo che la privazione accresce l'avidità e l'angoscia di persecuzione e che nella mente del bambino c'è la fantasia di un seno inesauribile, oggetto dei suoi più intensi desideri, si può capire come l'invidia insorge anche quando il bambino non riceve abbastanza nutrimento. Il bambino ha la sensazione che il seno, quando gli infligge una privazione, diventi cattivo perché tiene per sé il latte, l'amore e tutte le cure che sono associate al seno buono. Il bambino odia e invidia il seno che sente come avaro e meschino. Forse è più facile comprendere come anche il seno gratificante possa essere oggetto di invidia. La stessa facilità con la quale il latte fluisce, anche se il bambino se ne sente gratificato, è fonte di invidia in quanto al bambino questo dono sembra qualcosa di raggiungibile. L'invidia primaria viene rivissuta nella situazione di transfert. Per esempio, lo psicoanalista ha appena fornito un'interpretazione che ha dato sollievo al paziente e trasformato la sua disperazione in fiducia e speranza. Da alcuni pazienti o da uno stesso paziente in un momento diverso, questa interpretazione buona può essere oggetto di una critica distruttiva. Il paziente allora non sente di aver ricevuto qualcosa di buono, di aver sperimentato un arricchimento. La critica può rivolgersi a particolari di minore importanza. L'interpretazione doveva essere fornita prima, è stata troppo lunga e ha disturbato le associazioni del paziente, oppure è stata troppo concisa e non è stata capita a sufficienza. Questo tipo di paziente è invidioso del successo dell'analista e se pensa che l'analista, e l'aiuto che questi gli dà, sia stato svalutato dalla propria critica invidiosa, non può introiettarlo sufficientemente come un oggetto buono, né accettare la sua interpretazione con vera convinzione e assimilarla. Una convinzione sincera, come c'è possibile osservare in pazienti meno invidiosi, comporta un senso di gratitudine per il dono ricevuto. Il paziente invidioso potrebbe anche essere convinto di non essere degno del beneficio dell'analisi, perché si sente colpevole per aver svalutato l'aiuto che gli è stato dato. I pazienti ovviamente ci criticano per diversi motivi, qualche volta legittimi. Ma il bisogno sentito dal paziente di svalutare il lavoro psicoanalitico quando si è dimostrato proficuo è una manifestazione di invidia. Nel transferte possiamo scoprire le origini dell'invidia se riportiamo le situazioni emotive dei primi stadi alla situazione primaria. La critica distruttiva è particolarmente evidente nei pazienti paranoidi, i quali indulgono al piacere sadico di disprezzare il lavoro dell'analista anche se ne hanno ottenuto sollievo. In questi pazienti la critica invidiosa è chiaramente manifesta, in altri può avere una parte altrettanto importante, ma rimanere inespressa oppure inconscia. La mia esperienza mi ha insegnato che la lentezza con cui questi casi progrediscono è anch'essa dovuta all'invidia, la quale fa sì che i dubbi e le incertezze del paziente sul valore dell'analisi permangano. Ciò va attribuito al fatto che il paziente ha scisso e espulso la parte ostile e invidiosa del suo io e presenta costantemente all'analista gli altri aspetti che giudica più accettabili. Ciò nonostante le parti scisse influiscono in modo decisivo sul corso dell'analisi. Questa, infatti, per essere efficace, deve ottenere l'integrazione e agire nell'ambito di tutta la personalità. Altri pazienti cercano di sottrarsi alla critica entrando in uno stato di confusione che, oltre a essere una difesa, esprime anche l'incertezza del paziente che non sa se attribuire ancora all'analista un aspetto buono o accettare il proprio giudizio ostile sull'analista stesso e sull'aiuto che questi gli dà. Questa incertezza la ricollegherei al senso di confusione che è una delle conseguenze di un disturbato rapporto primario con il seno materno. Un bambino che, a causa della forza dei meccanismi paranoichi, schizzoidi dell'impito dell'invidia non sia capace di discernere l'odio dall'amore, di tenerli nettamente scissi e di distinguere quindi l'oggetto buono da quello cattivo, è soggetto a sentirsi confuso ogni qual volta debba giudicare ciò che è buono e ciò che è cattivo. L'invidia e le difese contro di essa, oltre agli elementi scoperti da Freud e approfonditi in seguito da Jean Rivière, 1936, giocano in questi casi un ruolo molto importante nella reazione terapeutica negativa. L'invidia e gli atteggiamenti che essa provoca contrastano con il graduale strutturarsi di un oggetto buono nella situazione di transfert. Il paziente che è nel primissimo stadio della sua esistenza non è stato capace di accettare e di assimilare il cibo buono e l'oggetto buono primario ripeterà questo suo atteggiamento nella situazione di transfert e il corso dell'analisi verrà così compromesso. Nel contesto del materiale analitico è possibile ricostruire, attraverso l'esame di situazioni precedenti, i sentimenti infantili del paziente verso il seno materno. Il bambino, per esempio, può provare un senso di fastidio perché il latte gli viene dato troppo rapidamente o troppo lentamente, oppure perché il seno non gli viene offerto quando egli lo desidera intensamente e perciò, quando gli viene dato, non lo vuole più. Egli allora allontana il viso e invece del seno si succhia le dita, oppure lo accetta ma si nutre in modo insufficiente e disturbato. Alcuni bambini riescono a superare questo senso di disagio solo con grande difficoltà. Altre volte questi sentimenti, anche se basati su frustrazioni reali, vengono ben presto superati e il seno viene allora accettato e il latte goduto pienamente. In analisi notiamo che i pazienti, i quali, secondo quanto è stato loro detto, hanno sempre accettato di buon grado il cibo senza assumere in modo palese gli atteggiamenti descritti, hanno scisso il loro risentimento, l'invidia e l'odio, che ciò non di meno partecipano allo sviluppo del loro carattere. Nella situazione di transfert questi processi si evidenziano. Il desiderio originario di compiacere la madre, di essere da lei amato, comeppure il bisogno impellente di essere protetto dalle conseguenze dei propri impulsi distruttivi, sono i sentimenti che stanno alla base della cooperazione di quei pazienti, i quali hanno scisso ed espulso l'invidia e l'odio, che si evidenziano però nella reazione terapeutica negativa.